Formare i manager del futuro mettendo in sinergia aziende e istituzioni. Il compito di Big Academy, la prima accademia del business nata a Firenze, è stato reso più difficile dalle crisi pandemica ed energetica, che in poco tempo hanno cambiato radicalmente il mondo del lavoro. Quello che ci hanno lasciato in eredità gli ultimi due anni, adesso sono le due principali direttrici che guidano la formazione degli imprenditori del domani, digitale e transizione energetica. Questo è un mondo che cambia continuamente e l'economia, le aziende, la tecnologia deve adeguarsi ai cambiamenti. Quindi quello che vogliamo fare è dare un contributo per formare dei manager consapevoli che siano in grado di interpretare il mondo esterno, capire i cambiamenti. Potenziare la capacità di risposta del territorio alle sfide del mercato. E questo è l'obiettivo ambizioso di Big Academy, che ha presentato il corso di studi per l'anno 2023 alla Camera di Commercio di Firenze.